Quando andavi a casa sua ti sentivi accolto come se fossi entrato nella tua casa. Don Primo Novello vedeva il positivo in te. Sottolineava il valore dell'amicizia e dell'amicizia con Gesù. Questo è il ricordo degli amici di Don Primo Benettoni all'Omelia della Messa Funebre celebrata a Cellore dal Vescovo Zenti. Quest'ultimo ha ricordato la semplicità del sacerdote morto a 98 anni. Voi l'avete conosciuto molto bene Don Primo. Possiamo dire che è stato un prete molto semplice, alla buona, alla portata di tutti. Un buon prete che non si vedeva altro che essere prete. Prete in mezzo alla sua gente. Senta tanti grilli per la testa. Da soldato di Cristo. Non sono stato travolto. Non mi sono lasciato travolgere dalle vicende della vita. O dalla cultura pagana. Sono rimasto un soldato di Cristo. Fedele. Così possiamo dire di Don Primo. Ha combattuto fino all'ultimo da prete.